Tecnic Pack Reloaded 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 vi siete persi dentro un topo che cercava di sgattagliolare via attirato da questa che non so perché attira anche i mob come potete vedere vedete stanno al lato sinistro allora qui dentro questo alchemical bag dovrei avere un altro alchemical bag che dentro contiene un altro alchemical bag che dentro no basta che possiamo buttarci tutte queste cosine dentro che sono le cose che avevamo poc'anzi eccoci qua dunque 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 questa è la nostra alchemical bag con le cose da sistemare per l'impiantozzo e andiamo a procedere sardura come lo facciamo? ah vi faccio vedere la stanza l'ho continuata di qua come potete vedere dalla minimappa usciamo fuori dalla torre ed ecco qui un bel cielo azzurro con vista panoramica sull'Mcappone allora 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 fateci fatemi fateci fatemi riflettere noi abbiamo un fregno c'è il taumic batte la pesca come si chiama? eccolo qua il taumic enchanter che va a mulini a vento i mulini a vento sono un oggetto che si crafta in una maniera molto complicata è il oh my god oh my god un flying pig ehi tu porco ma è femmina il porco eh no amore mi è cascato vieni qua oh my god guarda no vieni qui porco porco oddio ecco gnuba ciao ciao guarda salve no arriva la tigre no tigre svetila tigre l'ha uccisa ha ucciso no il porco si è incastrato sotto la dirt e la tigre non sa che fare allora noi andiamo a salvare mori stupida tigre 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 ok porco come prendo il porco non c'è la gravity con del grano con del grano con del grano che non ho vediamo un po' vediamo un po' qui ho del grano no e dove è il porco ma perché devi prendere il porco dove è il porco guarda ha le mammelle sotto è femmina è una porca oh oddio non è che magari forse non hai mai visto un porco dal basso io si io io mk eh e che c'hanno le mammelle tutti i porci no quella è una femmina ma dai quella è una femmina su 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 beh se pensi che ci sono solo mucche non ci sono tori sono galline e non galli si vabbè però però le cobulano poi che schifo cioè praticamente sono tipo figli etero come si chiamavano vabbè improvetta allora qui dobbiamo richiudere altrimenti finiamo schioppettati ecco qua del vitro e lo mettiamo qua ok e questo è fatto ciao ragazzi ci vediamo nella prossima puntata no vabbè allora questo coso dicevo che va a sia taint yep che in this e va gli occorrono delle librerie in realtà gli va molta più taint che in this allora per ora facciamo usiamo di nuovo le librerie si ne ho poche ma in futuro faremo i cervelli nella giara allora 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 facciamo la libreria classica di qua che guarda di qui tarati 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 così e così qui leviamo questa torcia taratata E dai, no Vabbè, questa la rompiamo Ci darà dei libri, gustosissimi libri Perfetto Allora, 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 allora Sto coso, maledetto Ha bisogno, abbiamo detto, sia di viste Che di tanto Che di tanto teint Allora, per fargli arrivare ambe due Uno purtroppo Dovrà essere preso Dov'è il mio super pick house? Eccolo qua Uno dovrà arrivare Da destra e uno da sinistra Altrimenti si attaccano Questi tubi, si mischia il viste e il teint E diventa davvero, davvero Improponabile Uh, però Effettivamente si potrebbe far passare da sopra Sarebbe anche figo vederlo, vediamo un po' se si attacca Liscio, no, non credo che si attacchi E vabbè, ci abbiamo provato, vedete Qui si attacca, qui si attacca Eh, lo so, però non ciuccia Qui sembrerebbe attaccarsi proprio lì dove deve attaccarsi, capito? Ah Quindi niente Vabbè, facciamo Eh, però mi fa schifo sta cosa Aspettate un attimo Sono un precisino in merda Così, così, così Così, ok E poi Così non si vede Vabbè E poi qui chiudiamo, così Cornonduole Mentre di qua, chi se ne frega Tanto Non ci andremo mai da quest'altra parte Facciamo passare I tubi qui sotto Perché li sto facendo così bassi in realtà? Basta sotto di due Eccoci qua Allora Così Molto bene Così, così, così Andiamo dall'altra parte E anche di qua Andiamo dall'altra parte Opla 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 Eccoci qui Allora Mmm Lipton IC Che cosa accade? Ok, tutto bene Devo farlo passare per di qua Perfetto Very good E qui abbiamo chiuso Chiuso E no E no Anche tu Vai di qua, di qua, di qua E di qua ti chiudiamo Ti chiudi? Perché non mi fai mettere il blocco? Ok Ok, adesso diciamo che È pronto per il rifornimento Di qua quindi dobbiamo mettere Beh, i due I due tank I due tank Come li mettiamo? Perché Dobbiamo ricordarci che Oltre a questo Che vuole sia vis che tank No, che taint Eh, c'è anche il dark infuser Che sarebbe a dire Eh, sto coso qua Che vuole sia vis che tent Che taint Non so perché dico tent Forse è che penso al tank Dove mettere il tent Quindi io questo coso qua Lo metterebbe Diciamo Vicino a entrambe Cioè vorrei fare una cosa del genere Così Uno va qua E uno va di là Se può fa Non trovi? Ora vediamo se la simmetria ci aiuta Qui ce n'è uno E qui ce n'è due Non ci aiuta manco per lo zufalo A meno che io non mi metta a spaccare Tutta questa parete Lo facciamo? Lo facciamo Però non in questa maniera buzzurra Come farebbe Un qualsiasi popolano In minecraft Ma in quest'altra maniera Molto 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 Più soddisfacente Dove sei? Mia cara Carissima Dov'è? Il tempo che la cerchi L'avevi già fatta No Voglio farlo in quella maniera là Dov'è? Aiutami Hai una Una ponche Ho una ponche? Eccola qua Prendiamo questo E prendiamo questo Perché non funziona? Siamo disarmati dalla Eccola qua Da Klein Starsphere Vi ricordo che in questa serie ho detto Ragazzi non saprei proprio come si pronuncia Klein Perché non mastico l'inglese Il ragazzo mi ha detto Guarda che Klein è tedesco Ancora ve lo ricordo Con la figura di merda Eeeh Patapim 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 Patapam Patapim Patapim Patapum Patapim 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 Perfetto Adesso 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 No non me lo dissi tu Non me lo dicesti tu Non me lo dissi Sì sono sicurissimo Era scritto Almeno Io e te non comunichiamo per messaggi di Youtube Fra un po' Fra un po' si sarà così Probabilmente Prendiamo e mettiamo Aca Vabbè dai queste finezze le faccio dopo tipo adesso così vabbè no, ok mi avete convinto mi avete convinto mi avete convinto, aiuto il morbo il morbo, esce da questo corpo ok allora adesso siamo simmetrici wow in realtà potrei vabbè no, 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 lasciamo perdere possiamo fare così e possiamo andare verso l'alto perfetto molto bene, molto molto pene visto che questi due sono collegati adesso io posso interessante no, possiamo da qua sotto vorrei far passare i tubi che vanno di là, quindi diciamo uno lo metto qui e uno lo faccio, gli faccio fare questo giro qua, anche se è poco collegante però è funzionale ttttt vediamo se ce la prendiamo quanto odio sta stupita dirt e di qua non riesco a distinguerlo maledetto ok mentre di qua è più semplice perché lo prendiamo e lo mandiamo qui e lo mandiamo lo facciamo prendere da qua così no, 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 no perché sto facendo questa cosa la sto facendo giusta in realtà che qui si ci sarà questo che non vogliamo che si unisca a quest'altro poi vi spiego tutti perché di quello che sto facendo la buttiamo giù la portiamo qua sotto la facciamo unire oh oh adesso si adesso si qui chiudiamo 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 poi io sarò un matto che si metterà a levare questi buchi perché non gli piace vedere la terra sotto del suo pianto oh ma guarda wow ma guarda che caraino molto bene molto bene anche se qui c'è un problema prospettico non vedrò quanto sono pieni quelli quindi li avevo qui già meglio ve lo farò in maniera molto più pesante giganormica ok 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 beh dobbiamo riempirli dobbiamo riempirli riempiamoli su re-recational channel abbiamo detto il teint non ci serve a nient'altro il vis si quindi noi dobbiamo mandare sicuramente del vis magari di qua o di qua non saprei ma che devi fare scusate un rutto allora innanzitutto ma innanzi praticamente io devo fare l'impianto che manda i due liquidi a smistarsi quindi qui e qua e va bene fino a quello però immagina che questo sia quello che crea i due liquidi quindi tu dici vabbè fai così ok ho pochi materiali per fare questi esempi fai così uno avanti là giù e uno avanti là ok perfetto però uno di questi mi serve da portare dentro l'oggetto x o almeno collegarlo entro 10 tubi di distanza se non sbaglio quindi 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 andiamo oh guarda quanti stronzi sta uccidendo ciccio vediamo come siamo messi 3 pezzi d'oro a forza di bistec non male qui ci sono 15 visconduct e andranno molto bene poi andiamo qua sto muovendomi abbastanza velocemente da farmi venire il mal di testa a me quindi figurati a voi eccolo qui il taumic infuser va soltanto a vis anche il taumic crystallizer va soltanto a vis c'è qualche altra cosa che va soltanto a vis qui dentro? no era per non farlo qua perché la cosa più semplice sarebbe fare così guarda ecco fatto bene hai fatto ma è banale no? vi piace? vabbè il parete di gnuba vince su quasi tutto tranne quando il mio parete è contrario però in questo caso in realtà non avevo alcuna idea in proposito quindi facciamo così e visto che mi piace di più avere il taint e il vista a sinistra mettiamo il crystallizer qui e ciccio infuser di qua perfetto stanno tutti a tre vicini che carini questo qui dici? si 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 adesso lo curiamo tra l'altro questi qua non serve passare gli tubi sotto perché vedi i buchetti sono adiacenti quindi prenderanno il vis da qua dentro o comunque anche così vanno bene allora io ogni volta sposto il martello non so perché sposto il materiale edile allora adesso che abbiamo fatto tutto ciò dobbiamo dobbiamo far sì che il l'ottimo vista e taint non si mischino perché altrimenti non so se ve l'ho fatto vedere nella puntata precedente il questi tubi praticamente permettono il passaggio soltanto di una delle due cose se ci passa una e per caso una si intoppa perché magari qui è pieno quindi noi abbiamo che ne so io mando in unico condotto e poi si divide se questo è pieno e fino a qui c'è taint stoppato il vista non riesce a passare cioè non è che che vanno osmosi rimangono è come se dovesse dargli la precedenza quindi rimangono in fila e aspettano il loro turno per ovviare ciò senza che vado di là noi abbiamo di qua delle advanced t vis valv come si dice valvola in inglese valve giusto mi devo ricordare di portal tiriamo quindi di giù questi tubi anzi facciamo così così e così ancora di nuovo per l'ultima volta facciamo così 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 chiudiamo qui sopra scusa non volevo merci qui non volevo chiudere davvero scherzavo dopo del tè no lo vorrei fare un po' più un po' più qua perché mi impalla la vista sarebbe carino farlo sarebbe carino farlo come parlo facciamolo così eh no perché a destra a sinistra e sotto ci devo mettere delle pompa us adesso ti spiego allora io faccio così così che sale qui questa e qui questa allora questa valvola come funziona ragazzotti funziona così è spenta è chiusa così fa passare soltanto il vis così fa passare soltanto il taint quindi abbiamo detto che lì a destra va il taint e noi gli diamo il taint quanto meno taint tanto di qua mazza che buco oh ma che è eh all'esplorazione un cubo di dirt carbone dun copper vabbè torno ai miei affari no che c'è ma dove vado sto con il piccolo e da madonna e l'armatura di dio adesso sicuramente verrà oh marco stai giocando in creativa vabbè ehm dicevamo dicevamo facciamo è un blocco questo sì un'altra tanichetta qua perfetto ma vada che roba fantastico davvero fantastico chiudiamo no non volevo chiudere lì però vabbè fa niente tatatatatatata taratata taratatatata paraparaparaparaparaparaparaparaparaparapam ci sono degli stronzi che cascano nel frammento e noi signore e signori sono felice di annunciarvi che abbiamo finito i visconduct quindi 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 oh grazie di tutta questa esperienza è stata una bellissima esperienza quindi andiamo a prendere il nostro cacciavite non puoi staccarli direttamente da là da dove? da questo affare? no questo ci serve ottima domanda questo impianto l'ho lasciato qui e rimarrà autonomo perché nel momento in cui il tent qui in basso a sinistra guardate quello con la T aumenta noi mettiamo qui dentro dei che sono dei viscondencer con il concentrate evil ammazza mi ricordo tutte ste cose incredibile e ci mettiamo dentro il tent visto allora lui che fa? risucchia il tent dall'area crea tent liquido che però mandiamo a purificare senza alcuna traccia e quindi scoria e ci elimina la possibilità che tutta questa zona diventi verde anzi viola maligna con creeper potenziati e rotture di balle megagalattiche dunque qui c'è un altro tampax noi intanto la spada la prendiamo perché è molto bella prendiamo anche il lanciatore di frecce ogni tanto ci vuole cosa sto cercando? ah la chiave inglese detta wrench per gli amici allora ci servono dei panel mancano 4 non ho fatto l'autocrafting dei panel male molto male vabbè intanto chiediamo questo poi chiediamo un po' di legno ne chiediamo ecco 167 e della radstone della radstone che dovrebbe essere poca infatti sono 888 pezzi ne chiediamo 30 31 allora il il vetro sta arrivando l'estate se ne va come si faceva il pannello di vetro così? oppela no ce ne serve di più incredibilmente di più certo ce ne da 9 quindi forse in realtà non ce ne serve di più però vabbè ok legna eccola qua no ok e radstone vabbè ce li facciamo bastare 53 guarda quanta exp experience farm dunque 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 stavamo prendendo i tubozzi e portando l'ozzi di qua ehi 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 stai calmo portandoli di qua e questo è perso per sempre quel tubo no non sto scherzando a meno che non cito è perso per sempre o spacco tutto una delle due allora vabbè spacco tutto perché sono un tignoso oh l'ho ripreso che cazzo mamma mia hai sentito il cry però no io no vabbè ha fatto strano allora 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 una cosa che mi è venuta in mente adesso è che è questo qui non è il crucible finale il crucible finale si chiama taumik qualcosa taumik eccolo qua ah l'abbiamo sbloccato allora fino al mondo vabbè allora intanto usiamo il crucible normale crucible perché lo chiamiamo crucible crucible grazie dopo che andiamo a prendere qui degli ottimi diamantolli e andiamo a verificare se il sistema funzia love ci sei? certo è andata a prendere la coperta perché ha freddo si è andata a prendere la coperta l'ho tirata a indovinare ed era vero guarda vedi come non funziona assolutamente un cazzo paia di niente funziona no non funziona affatto perché 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 bravissima sei geniale senza volerlo sei geniale perché perché no senza volerlo senza saperlo volevo dire questi tank hanno questo valore di tcb il tcb è una misura della pressione che questi contenitori producono nei confronti del liquido ok questi tubi come vedete non hanno assolutamente un cazzo paia di niente questo adesso sta a zero ma se lo mettiamo a funzionare ci avrà un valore 50 idem a questo quindi da qualsiasi altro tank o conduct la roba uscirà e andrà dentro questi qui quando sono attivi ma adesso sono spenti quindi non è il nostro problema questi qui cosa questi? allora questo qui serve per fare le infusioni che ci dà gli oggetti classici questo serve a metterci dei cristalli deplete cioè quelli vuoti questi cristalli colorati? si quando tu li metti qua dentro ti dai i cristalli deplete vediamo se abbiamo un esempio pratico ne abbiamo un esempio pratico col cassiopea va bene va bene forse è qui no? ah perché uh l'impianto dove li sta mandando? interessante dove li sta mandando? molto interessante perché vedi qui c'è un impianto collegato a tutto il resto della casa quindi se lui non trova dove mandarli li manda nella cesta di smistamento che è questa qui c'erano 60 eccoli hai visto? qui c'è un tank qui c'è un filtro noi prendiamo tutto un or gate un state gate un diamant non ci interessi oh guarda quanto sono ricresciuti i cristallozzi allora 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 vabbè comunque qui dentro questo usa il vis puro per generare un cristallo a caso ah ecco sta provando però non a vis poi questa barra aumenterebbe e ci dà un cristallo a caso ok un cristallo a caso sto peranzando però miei cari miei cari che in realtà io questo lo vorrei collegare a quell'impianto in modo che questo si riferisca automaticamente ergo miei cari amici forse è il caso di fare il contrario cioè fare così oh my god nooo ok chiudere di qua ok e fare le contraire le contraire le contraire eccolo qua poi qui collegheremo l'impianto di logistica all'aggiù così i template crystal andranno direttamente a chi detto ciò dobbiamo prendere le giuste appunto pompe e ne abbiamo guarda caso DOS le andiamo a prendere e le mettiamo una qua sotto il problema delle pompe è che non le puoi girare quindi le devi prendere e mettere nella giusta posizione che di norma è questa perfetto deve pompare verso prendiamo questo qui oh il vis passa e finisce ca dentro eccolo qua very good altresi dobbiamo prendere questo qui va bene a questa misura intanto la pompa vediamo quanto ha di tcbcpcpc a 20 quindi ce la fa tranquillamente sono 20 tubi rompiamo anche di qua scendiamo di u beh uno però vabbè meglio abbondare creavi la varizia e mettiamo la pompozza qua io richiuderei tutte cose qua sotto non so perché però e attivando questo dovrebbe passare oh il taint eccolo là ora però ora però ora però no non ci significa niente perché quando questo serve li richiama ma non li può mischiare laggiù ho visto una cosa stramba però vabbè è caduto uno struzzo è caduto sì una cosa strana vediamo qui come stiamo messi un pezzo d'oro allora adesso si buttiamo dentro i diamantolli perfetto va a smistarsi tutte cose vedi come aumenta qui però un po' un po' occluso però besti cazzi 130 allora 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 la prima cosa da fare in questi casi è andare a vedere come si fa questo ci vogliono 50 di vista e noi ce li dovremmo avere per che fosse 120 e ci vogliono due lingotti di taumium il famoso colluttorio e dovrei fare altre due pompe per mandarli a depurare tu dici ecco il taumium verde sì cosa vuoi sapere a mandarli nelle librerie a mandarli nelle librerie quali librerie queste ecco lì già abbiamo fatto no forse no questo è un macchinario a differenza del liquido normale base che non ha spinta il macchinario dovrebbe avere una pressione di 50 e quindi cioè ciucciarselo fuori da solo ok però posso sempre essere smentito dai fatti questa è un'eventualità allora prendiamo questo lo rompiamo grazie lo mettiamo qua dentro mettiamo questo questo e questo e voilà voilà le voilà guarda che bell'effettozzo e abbiamo l'ultimo crucible quanto mi piace la towncraft 2 ragazzotti mi piace tant'erni ma questo lo prende sì visto che siamo ricchi sfondati credo sia il momento ah purtroppo non prende la dark matter o l'hard matter credo sia il momento di richiedere di richiedere no non devo andare qui devo andare qua di richiedere dove sei dove sei dove sei dove sei dove sono yes the block of diamond successful ne hai cinquemila quanti erano cinquemila sì vabbè per gradire cioè in amicizia da qualche parte dovrei 385 red butter che cazzo ci faccio poi eccoli qua andiamo a bruttarli dentro il crucible e voilà vedi come si divide perfetto ce ne buttiamo un altro po' giusto per far numero allora non ci resta che non ci resta che prendere due arcane below eccoli qua e dargli una bella boosterata questo qui contribuisce a a smeltare diciamo più velocemente gli oggetti in vista e tent e riduce il tent e non so se lo stai notando vedi che ce n'è di meno prima era di più il tent adesso il tent non passa più no lo riduce il prodotto guarda è molto di meno in realtà la perfezione sarebbe mettercene 4 però poi mi sono sempre chiesto ma dove cazzo li metto 2 di questi quindi boh vabbè signori questa puntata è terminata abbiamo guarda che bello si very good very good nella prossima puntata vediamo quanti cervellozzi abbiamo perché se no ci dobbiamo mettere a picchiare noi anzi questa qui quasi quasi la stoppo ok grazie per fare i cervelli nargiare e poi buttarci sull'incantamento della towncraft dopodichè non preoccupatevi vorrei andare su non lo so forse sui motorframe vedremo 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 vediamo un po' di cervelli noi abbiamo ne abbiamo due che schifo dobbiamo farmarli ne abbiamo tre signori io guarda 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 tanti stronzi nessun cervello all'orizzonte però abbiamo un visconduct oh guarda very good e allora vogliamo fare una prova 42 livelli 42 43 27 31 dai dai ridammi 42 per favore 42 quanto è stronzo sto sistema è incredibilmente stronzo vabbè 39 via oh il vis arriva e perchè il tento non arriva forse ce n'è troppo poco no non se lo caga di pezzo è più vicino forse prende prima il vis e poi tutte cose vediamo un po' dun 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 guarda che cacchierola battene va ci sta mettendo un'eternità come sussia ma non è che questa andava soltanto a vista possibile sta sussiando in una maniera assurda io butto altri due bloccozzi nel dubbio giochiamo coppe può darsi può darsi può darsi che io mi sia completamente sbagliato sono un nabbo sono un nabbone ce n'è un altro di questi che usa che ti da oh chi è dove sto morendo di fame vabbè ce n'è un altro questo è quello normale va soltanto a vis ce n'è un altro che metteremo qui a questo punto che va a vis e tent e che c'ha un cervello che ti guarda al posto del libro l'occultic enchanter mi pare vediamo un po' mi stanno uccidendo mi sto uccidendo da sola eccolo qua oh occultic enchanter yeah 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 allora nella prossima puntata continuiamo con questo qui e poi andremo su qualcosa di più tecnico però andiamo a prendere la spada visto che ce l'ha fatta ma che merda Bane of Earth Earth come si chiamano vabbè cioè contro i ranghi ragazzotti dopo io sono Marcus Crone qui come c'è anche e ci vediamo nella prossima puntata ciao a tutti Creeper Creeper Night το 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 PT το